benvenuti a detto fatto io sono valentina e lui è fabrizio allora con fabrizio invece oggi prepariamo i topper per le nostre matite dobbiamo crearli topper colorati per le nostre matite si con la gomma crepla e la nostra fustellatrice che colore vogliamo utilizzare per le nostre formine ecco il nostro cuoricino e la nostra farfalla poi facciamo l'alberello vogliamo farlo l'alberello di che colore bianco ecco il nostro alberello poi che vogliamo fare la stellina di che colore ok eccola qui la nostra stellina e adesso facciamo il fiorellino sì di che colore rosso adesso creiamo le aperture per inserire le nostre matite musica 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 screws zad 29 queste sono le nostre matite personalizzate provateci anche voi a personalizzare gli astucci dei vostri bambini per quando andranno a scuola ti sono piaciute Fabri? sì le mettiamo nell'astuccio nostro? sì sì? vi aspettiamo alla prossima puntata di Detto fatto ciao ciao